Sì, torna in azione. 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 All'accampamento servirà. Sì, torna in azione. Sì, torna in azione. Sì, torna in azione. Sì, torna in azione. Del carburante. Mi serviva proprio. Sì, torna in azione. Sì, torna in azione. Un altro radiofaro? Un iniettore della Nero. Quello che ci voleva. La formula chimica della felicità. Un altro di quei registratori. Cosa può essere successo? Controllare il registro. Tu? Sì. E così sono quattro giorni di fila. Ma posso lo fare? E l'hanno fatto? Già. Quindi direi che posso. Il lavoro non manca. Il tempo invece sì. Sì, sì, lo capisco. Ma merda, Doc. Insomma, ci stanno spremendo. Non abbastanza. Che c'è? Che c'è? Non avevate tempo per giocare a Tama nei vostri bunker riscaldati? Eh, problemi da una bambina. Orsolo. Però tanto da una bambina. Irrgiumi. Pagmuntellati. Malta! Malta! Inolent Levi Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. l'amico generatore è a secco. è sempre a secco. niente da fare. a tutti. 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 Grazie. 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 Mi serviva proprio. Ven. Questo è un presidio di quarantena che opera sotto la giurisdizione federale. Speriamo ci sia qualcosa che valga tutti questi sforzi. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Un iniettore della Nero. Quello che ci vorrà. Spareremo a chi proverà ad aggirare le barricate. Spareremo a chi tenterà di interferire i contagi della Nero. Un altro di quei registratori. Cosa può essere successo qui? Arrivano ancora. Sono troppi. Qui non possono andare. È sicuro. Verda. Il generator. È secco. Non c'è corrente. Non c'è corrente. Non c'è corrente. Non c'è corrente. Corrente. Non c'è corrente. Non c'è corrente. Non riempiti. Non ti fai una cosa che ci ho in emergenza. E ora... Non possiamo aprirci. Cosa... cosa facciamo? Pesci... Eh, prima me. Disfruttando me. Passa. Ce la faccio. Che Dio ci aiuti. Oh, Gesù. È un modo fenomenale per uscire. Perché aspettare allora? Che Dio ci aiuti.